ragazzi nuovo video siamo in questa bellissima zona vedete che bel bianco c'è dietro ecco questa è nebbia adesso andiamo a vedere siamo in una zona dove c'era un piccolo complesso di case siamo io ivan e vania comunque adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa dai ecco a voi ivan l'hai trovato ivan per adesso un cazzo bene andiamo pure avanti allora ecco qua questo qui era uno staletto ma un magazzino di qualcosa e adesso arriviamo nel complesso delle case questa è una lì ce n'è un'altra ce n'è un'altra c'è un'altra è tutto un complesso di case che adesso è fatica a spazzolare qua in questa zona perché alti però non abbattuto gliela diamo tutto distrutto ma qua si riesce a entrare adesso devo dare un'occhiata qua ciao e andiamo fuori andiamo a vedere quell'altra ecco entrare in questo è un po più pericoloso perché guardate che roba ecco io qui non ci entro niente ragazzi niente qua non è uscito niente guarda un po consiglio vivamente a tutti di usarlo questo giubbino rinfrangente in questi periodi di nebbia ma soprattutto di cinghiali quindi cinghiali portano i cacciatori ci spostiamo avete visto quel complesso di case abbiamo spazzolato un po ma non è uscito niente quindi ci stiamo spostando adesso ci stiamo spostando ci stiamo ci siamo spostati e siamo più giù dove c'è un po più di pianura prima moneta ragazzi non si capisce non si capisce ma se la puliamo che ci guardiamo stavo andando da ivan e mi sono nato qua è uscita questa monetina qui ah no una votiva una votiva bella intera una votiva votiva bella vecchia con tutta la piccaniolo bene dai lo trapuliamo sta poi venendo giù la brina andiamo a vedere ivan cosa ha trovato nel frattempo guarda quella che sta votiva qui è bella intera sì sì che è bella stiamo via vediamo ivan io ho trovato un paio di monetine due tre piombetti una fibietta quelle presente che si arriva due monetine dai queste vecchiette però non ci vede un cazzo per me si 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 ma ci fa fatica la 5 lire, la bottiglina a quadrifoglio per adesso dai qualcosa c'è, vediamo che Ivan è molto contento guardate che bello effetto bouquet che ha con la nebbia dietro guardate che roba, si sta trovando molto ragazzi ogni tanto esce qualche pezzo strano tipo questo guardate un pezzo di moneda, guarda che roba forse un soldo l'hanno stato sagomato alla testa guarda che spettacolo 1867 bellissimo si è un soldo oddio si legge vedete bello mai trovato un quasi così comunque ragazzi non l'avevo mai trovato una moneta sagomata bellissima guardate che roba si vede o si vede la mia faccia da culo comunque penso che sia uno dei più belli trovamenti che ho fatto ultimamente davvero particolare e bello guarda che storia questo qui di qua si legge la o e la d del soldo in alto c'è scritto pontifex bel pezzo bel pezzo davvero qui ci potrebbe fare tranquillamente un bel ciondolo altro target ragazzi non ci crederete ma hanno trovato un'altra ho trovato un'altra c'era che sia stato natale tempo di tortelli bella questa un'altra allora qui si intravede già il verde nella terra che cos'è bello è una fibbia ah col suo bella bella col suo ago come si chiama pure questo non mi viene in mente ragazzi bellina bellina integra guardate che bello ancora l'oscido nella terra va bene la nebbia agli articolli non cala ragazzi tiene botta altra monetina ragazzi è già andata fuori è già andata fuori che cos'è eh questo è un luscione questo è proprio un luscione forse qualcosa si riesce a un napoleone cos'è è un vittorio dai non lo so ci guardiamo ragazzi ci guardiamo si intravede qualche scritta si intravede comunque ragazzi questo golden mask è tutto bene stavolta cinque più lavora bene adesso l'ho impostato in profondità ho eliminato tutti i rumori del ferro mi sta andando veramente bene mi sto divertendo sto tirando fuori qualcosina tutta roba recente in questo campo però un'altra vautiva ragazzi qui c'è la piccagno rotto qua sopra questo campo promette bene però sapete che campo è è il campo dove ho trovato il crocifisso adesso vediamo di pulire questa bottiglia qui vediamo se si salta fuori qualcosa di carino sotto non credo vecchia comunque però dai guardate qua guardate qua la vedete? Dex ah queste son belline queste bottigline piccole intere classiche lauretane immagino ah che violine che carine che carine ho fatto due metri dall'altra vautiva due metri ah bella quanto mi piacciono le vautive niente penso che sia una serratura questa piccolina Iva nel frattempo ha trovato un cane o un cavallo cos'è ragazzi questo? ah c'è il ciondolo si belino è piombo? sembra piombo è un cane o un cavallo? aperto sotto vediamo la faccia di Ivana ahahahahah ma questo qui è un placato d'oro ragazzi non so cosa sia però vedete era placato d'oro ragazzi non montiamoci troppo la testa è un bagaglio che era lavorato con una foglia d'oro poi? non so cosa possa essere non so che cazzare tipo un borghione si boh non è la più pallida ah se c'è un coso dentro adesso lo pulisco poi ci guardiamo tipo un borghione comunque una roba placata altra moneta un pezzo quello che ne rimane di una moneta rame si ragazzi ragazzi il campo dei miracoli guardate che bella fibietta forse da scarpa che bella forse da scarpa cosa dite voi per massì bellina da matti la puliamo e la vediamo pulita tutti insieme eccola qua vania trova la sua prima moneta ragazzi la guardiamo insieme non si capisce che sia ma un baiocco dovrebbe essere un baiocco o un mezzo baiocco la cosa si legge va bene prima moneta per vania che pensava anche lei di non trovare niente invece anche lei col golden musk io torno a cercare delle votive ragazzi sbucca nella se e smonetazza messa maluccio ma monetazza monetazza guarda c'è venuto fuori questo oggettino qui non so cosa sia sembra che ci sia un un chiodo da questo lato nel lato nel retro a forma di cuore comunque come avete visto ragazzi questo qui è un video solo di ritrovamenti poco poche immagini spettacolo non lo voglio solo ritrovamenti ed è andato bene perché ce ne abbiamo fatti tanti ragazzi era tanto non mi divertivo così comunque mi divertivo nel senso che non c'è tanti ritrovamenti qui adesso abbiamo trovato questo bottone abbiamo trovato questo bottone e niente adesso andiamo ancora avanti guardate quanto è grande questa zona credetemi è pazzesco comunque ragazzi allora sono le tre e mezza di pomeriggio abbiamo iniziato a chiare bene sera stamattina ero le 10 le 10 abbiamo trovato un pochino di roba adesso guardiamo anche Ivan e Ivan cosa hanno trovato siamo contenti allora 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 ho fatto questa buca qua un po' fonda però è uscito per farla chiusura col botto perché stiamo finendo la giornata ho il fiatone perché ho fatto la moneta qua che poi forse è una votiva anzi è sicuramente una votiva speriamo che ci sia l'appi la pizze c'è 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 la pizze la pizze cagnolo è un po ruggine bella 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 bellissima è bellissima c'è un po di ruggine però vediamo se salta via sta ruggine con la pulizione che bella a piccani all'intero qua c'è il crocifisso bella stavo tivona bella grande guardate mi prende due dita mi prende intera e non ho le dita piccole ragazzi bella di qua c'è sto pezzo di rugine non capisco cosa sia soprattutto non capisco perché probabilmente l'ultimo target che vedete in questo video perché stiamo per chiudere siamo un po stanchi ma noi sono un po cotto la nebbia ragazzi è ancora quella stiamo chiudendo ragazzi adesso facciamo vedere un po di ritrovamenti allora questa qui è la mia roba che avete già visto nei video bottone votivina moneta sagomata bellissima due votivone una votivina anche ivan non scherza ragazzi fibbia borchia una foglia le votivine un ditale e questo che è un cane un cavallo non si sa un ciondolo insomma ne volta fuori la robina vania prima spazzolata prima monete due minuti monetine che adesso le perdiamo poi dopo le ricerchiamo mezzo baiocco e un 5 centesimi di vittoria dovrebbe essere un baiocco va bene ragazzi questo è l'ultimo spazzolato del 2018 e noi facciamo un grandissimo buon natale buon natale buon natale buon natale buon natale buon natale